Siamo nella sede di Federpharma con il Presidente di Federpharma Roma, Vittorio Contarina. La prima domanda che viene spontanea, come si dice in questi casi, Presidente, come si può evolvere il servizio farmaceutico rispetto al rapporto con il sistema sanitario della Regione Lazio? Io intanto credo che tra le farmacie e la Regione Lazio, o comunque del Servizio Sanitario Nazionale, ci sia assolutamente un rapporto molto stretto nel quale i farmacisti e le farmacie non si sono mai tirati indietro. Abbiamo sempre fatto la nostra parte in sede anche di parecchi sconti che noi ogni mese facciamo al Servizio Sanitario Nazionale di cui nessuno sa niente ed è un piacere parlarne perché sono tutti quanti sconti che poi si riversano nelle tasche dei cittadini. Ovviamente noi anticipiamo alla Regione, anticipiamo ai cittadini quindi tutte quante le ricette del Servizio Sanitario Nazionale per diversi mesi, noi veniamo ovviamente rimborsati successivamente, quindi noi facciamo un grande servizio allo Stato e ai cittadini. In particolare ultimamente abbiamo anche messo in piedi il servizio Recup di prenotazioni per le visite mutualistiche sanitarie e devo dire che a parte qualche problema iniziale legato soprattutto alla piattaforma, adesso diciamo che abbiamo trovato una certa automatizzazione e i cittadini vengono a prenotare le proprie visite, cerchiamo, cercheremo, questo è un impegno di velocizzare la procedura che dal punto di vista tecnico, informatico è ancora un pochino lenta e questo ovviamente è un problema sia per il cittadino che magari aspetta qualche minuto in più sia per noi che veramente veniamo rimborsati veramente una cifra veramente irrisoria e quindi ovviamente è un costo di fatto per noi ma è un servizio che noi facciamo molto volentieri al cittadino e d'altra parte la farmacia è questo, noi siamo un servizio per la cittadinanza, noi siamo un front office per la cittadinanza dal primo gradino sanitario che il cittadino trova per strada in ogni incrocio Signor Presidente c'è un cattivo pezzo tutto italico, se andiamo a vedere nelle case ciascuno di noi e apriamo il cassetto dove teniamo le nostre mitici ne troviamo pieno quindi com'è possibile combattere, perché poi tutto questo diventa uno spreco e la possibilità di arrivare finalmente a quelle scatolette, non dico monouso ma insomma per quello che serve veramente al malato, ha bisogno di 6 pasticche perché ne dobbiamo dare 30? Beh certamente, intanto bisogna dire che le scadenze sono piuttosto lunghe insomma io oggi sono sotto antibiotici, ho preso un antibiotico oggi che avevo comprato parecchio tempo fa certo può capitare ovviamente, però è un cattivo uso anche di quello che il paziente fa della medicina per esempio una terapia non sempre viene seguita per disseguamente fino alla fine nel caso degli antibiotici per esempio quasi mai il paziente termina la scatola e questo è un problema anche di farmacoresistenza che appunto dal punto di vista dell'antibiotico è molto sentito diciamo che il cittadino dovrebbe imparare anche noi, ovviamente questo è un compito nostro che dobbiamo cercare di educarlo in tal senso a utilizzare meglio le medicine prescritte e aderire alla terapia prescritta dal medico ovviamente le medicine scadute scaderanno sempre però diciamo che ci possono essere anche dei risvolti positivi in quanto per esempio abbiamo parecchie associazioni che magari il farmaco prima di scadere porta magari a chi ha bisogno, alla Caritas, a persone che hanno bisogno non sempre il farmaco deve scadere, se ci si fa un po' anche attenzione ovviamente possiamo darlo a chi ne ha bisogno e ci stanno delle associazioni che fanno questo certamente si può cercare di migliorare tutto quanto vedremo se ci sono delle soluzioni che vanno bene sia ai cittadini che ovviamente anche alle aziende farmaceutiche ovviamente per il blisteraggio che possano accontentare tutti noi facciamo una trasmissione televisiva che va in onda tutti i giorni e si occupa molto di sanità è una delle cose che ascoltiamo spesso da parte di chi ci telefona che è una trasmissione in diretta con il telefonato dei cittadini anzi è un'occasione per invitarla magari c'è una forte resistenza rispetto al farmaco generico guardi come sfonda una porta aperta io sono uno che dentro il proprio cassetto tra i farmaci appunto quasi scaduti ma cerco di non farli scadere ha moltissimi generici il generico è un farmaco che ha permesso grandissimi risparmi ai cittadini grandissimi risparmi allo Stato e sinceramente sono assolutamente convinto che abbia la stessa efficacia terapeutica ma non perché ne sono convinto io perché l'ho studiato all'università e perché è così veramente del farmaco brandizzato quindi io dico sempre ai miei clienti quando arrivano se questo farmaco si chiama Pippo o Pluto sempre dentro c'è la stessa cosa per alcuni prodotti c'è un po' di effetto placebo soprattutto per i farmaci legati al dolore magari qualcuno che ha qualche resistenza diciamo così mentale ad accettare il generico può non avvertire l'essere sollevato diciamo così dal dolore e quindi in quel caso non è tanto il generico ma è tanto la nostra mente che fa effetto per quanto riguarda l'antibiotico di cui sopra e quello che ho preso io oggi se io ci credo o non ci credo sempre il principio attivo è nel mio corpo e nel principio attivo se io credo o non credo il germe, il batterio lo uccide comunque quindi io sono un fautore assolutamente dei generici e dei farmaci equivalenti Senta, io leggo testualmente da una nota proprio di Federpharma che lei sa meglio di me che stiamo facendo i conti con un piano di rientro quindi tutta una serie di abbattimenti e così via e in questo la spesa farmaceutica ha un suo peso però quello che mi ha stupito leggendo appunto alcuni dati di Federpharma leggo numero ricette calate del 5,3% spesa lorda e addirittura aumentata del 5,3% come ricette il numero delle ricette sì e mentre invece la spesa è diminuita del 16% come si concilia questa cosa? Grazie ai generici l'uscita dei farmaci generici ha permesso diciamo una diminuzione nel momento in cui scade il brevetto dei farmaci brandizzati appunto le aziende genericiste abbassano il prezzo e anche in secondo diciamo il prezzo deciso anche dall'AIFA e quindi di conseguenza l'azienda leader del mercato che ha inventato il farmaco diciamo che ha inventato il farmaco appunto abbassa ovviamente il prezzo per non pagare una differenza di prezzo col generico eccessivo quindi ed è questo lo dico perché magari a qualcuno non ci crede e lo voglio dire con fermezza anche questo è uno dei purtroppo una delle cose che hanno fatto sì che le farmacie ultimamente hanno parecchi problemi dal punto di vista finanziario perché si sono ridotte assolutamente il fatturato a causa dell'abbassamento dei prezzi dei farmaci laddove per esempio faccio un esempio l'auline una volta costava 22.000 lire all'epoca adesso costa 2 euro voi immaginate tutto questo per tutti quanti i farmaci presenti nei nostri scaffali immaginate che cosa è successo al fatturato delle farmacie non voglio assolutamente piangermi addosso però ogni giorno oggi un'altra farmacia è fallita a Roma è già il ventesimo, trentesimo caso di fallimento di farmacia in un anno allora il problema è che non è la farmaceutica la spesa farmaceutica territoriale quella delle farmacie per capirci che è un costo fuori controllo per la regione e per l'SSN è quella la spesa farmaceutica ospedaliera che anche quest'anno ha sforato di un miliardo di euro mentre invece la spesa farmaceutica territoriale quella che viene tenuta sotto controllo ogni anno dai farmacisti è sempre appunto sotto controllo purtroppo è un bene per lo Stato è un bene per i cittadini però io devo dirlo le farmacie sono a rischio default moltissime farmacie hanno problemi finanziari e purtroppo in questo ha pesato la parafarmacia la scelta della parafarmacia? no non ha pesato la scelta delle parafarmacie io credo che ha pesato più che altro appunto questo calo importante del fatturato legato appunto all'uscita dei farmaci dei farmaci generici ha pesato tutte quante le trattenute sul servizio sanitario nazionale che noi ogni mese dobbiamo appunto erogare allo Stato e abbiamo parecchie difficoltà io lo dico lo dico sinceramente il 30-40% delle farmacie in Italia è a rischio default devo dire una cosa però la fascia C l'uscita della fascia C sarebbe e non lo dico io lo dice la Corte di Giustizia Europea sarebbe il colpo di grazia per le farmacie la grande distribuzione che vuole l'uscita della fascia C per aumentare il proprio fatturato comporterebbe automaticamente la chiusura di tantissime farmacie in Italia soprattutto nei piccoli paesi quindi derubricare il problema dell'uscita della fascia C ha soltanto un problema di ma se il parafarmacista pure la può vendere probabilmente sì e no diciamo così perché io faccio sempre questo esempio non è che un chirurgo può diciamo operare fuori da una clinica o da un ospedale ci vuole una struttura con delle regole con degli oneri onori e oneri allora l'uscita dalla fascia C ulteriore oltre all'uscita dagli OTC che è uscita già da parecchio tempo sarebbe il colpo di grazia per le farmacie lo dice la Corte di Giustizia Europea non lo diciamo noi lei ricordava poco fa una sorta di sofferenza che ha stato vivendo e la regione il Presidente Enzigaretti insiste spesso dicendo che ha ridotto i tempi di pagamento soprattutto anche nel settore sanitario entro 60 giorni facciamo 90 facciamo sì è un risultato però ovviamente c'è ancora molto da fare diciamo che comunque ci stanno queste stiamo parlando del grosso ma ci stanno tantissime tantissime tipi di farmaci come per esempio quelli dell'insufficienza terrenare cronica che devono essere pagati a più di un anno beh ovviamente non mi sto lamentando rispetto a prima è molto meglio però calcoli che diciamo rispetto a prima il fatturato SSN per la farmacia si è praticamente dimezzato dimezzato i costi per le farmacie sono assolutamente identici se non di più l'ha letto lei le ricette sono aumentate del 5% quindi io il personale in farmacia lo devo mantenere ovviamente quindi i costi sono gli stessi se vogliamo anche di più con tutti quanti gli oneri burocratici che si moltiplicano di giorno in giorno però alla fine diciamo quello che entra nelle casse delle farmacie è la metà questo è un problema non tanto per la farmacia voglio dire è un problema per la farmacia ma è un problema se la farmacia non riesce a sostenersi economicamente per i cittadini perché se la farmacia chiude non chiude un negozio chiude un presidio sanitario aperto costante io lo dico sempre se la grande distribuzione o la farmacia vuole la fascia C si prendesse tutto il pacchetto andasse ad aprire il supermercato a Vallinfreda paese di 300 abitanti nella provincia di Roma conosce? bene andasse ad aprire la farmacia il supermercato lì dove c'è la farmacia i carabinieri 300 abitanti ma lo andasse ad aprire tutto l'anno anche ad agosto a ferragosto a natale e la notte invece di chiudere il negozio magari restasse a disposizione della mamma che vuole la tachipirina per il figlio ok questo è il servizio che facciamo se volete la fascia C vi dovete prendere tutto quanto il pacchetto noi non siamo un negozio noi non siamo non vendiamo prodotti alimentari noi vendiamo salute e vendiamo ovviamente anche servizi come per esempio noi abbiamo defibrillatori soprattutto nei piccoli paesi defibrillatori tante vite sono state salvate misturatori della pressione ovviamente il primo consiglio voglio dire anche la glicemia assolutamente ma voglio dire anche anche un'altra cosa se in una farmacia io so che un mio paziente assume dei farmaci di fascia A quindi mutualistici io lo so che li assume se viene lo stesso paziente e mi chiede un farmaco magari di fascia C che so che è incompatibile con quel farmaco io glielo dico di un alt io mi ricordo che tu prendi questo farmaco non puoi prendere quest'altro in un ma se io in una parafarmacia o in un supermercato dove magari sta per acquistare quel farmaco di fascia C e però il farmaco di fascia A l'ho acquistato chi è che ti ferma a quel punto cioè noi siamo abbiamo diciamo una visione globale del paziente e sempre più noi questa visione globale la dobbiamo mantenere dobbiamo anzi attraverso un'interfaccia questo glielo dico in anteprima è una cosa che noi vogliamo fare si sta anche strutturando in Italia attraverso una interazione con altre figure professionali tipo infermieri assistenti domiciliari assistenti sanitari domiciliari sociali medici di medicina generali insomma noi stiamo cercando di creare una rete attraverso il quale poter farse seguire il paziente nel suo decorso nel suo decorso clinico l'aderenza alla terapia è fondamentale in questo lei sa per esempio che soltanto il 40% delle persone segue la terapia assegnata dal medico solo il 40% se noi riuscissimo ad aumentare e ci stiamo strutturando per farlo l'aderenza alla terapia da parte del paziente dal 40% al 70% pensate che soltanto per gli ipertesi si risparmierebbero 100 milioni di euro in 10 anni questo perché perché un giorno soltanto di ricovero ospedaliero costa tra 800 mille euro mentre un anno di assistenza farmaceutica a un singolo cittadino costa 154 euro questo che significa un maggior rapporto con i medici di famiglia quindi? ma un maggiore rapporto con diverse strutture noi io immagino ma lo stiamo predisponendo anche una piattaforma informatica di scambio di dati dove il medico possa monitorare costantemente il decorso clinico del medico e la farmacia possa offrire una serie di servizi dal punto di vista mutualistico e dal punto di vista anche privatistico ai cittadini per magari qualche terapia che magari o magari adesso fa in ospedale ma che potrebbe benissimo fare a casa attraverso l'operatore sanitario di cui parlavo prima che magari può venire a casa parlo anche dei farmaci innovativi i farmaci innovativi che non passano più nella farmacia adesso i farmaci innovativi vengono soltanto dati negli ospedali noi ci ritroviamo a vendere ormai in farmacia farmaci desueti siamo l'unica categoria professionale hai mai visto un idraulico che usa un tubo degli anni 80 usa il tubo l'ultimo arrivato di nuova generazione invece noi siamo costretti ormai a vendere farmaci desueti allora attraverso sempre ovviamente mettendo davanti il risparmio perché noi dobbiamo risparmiare soprattutto lo Stato deve risparmiare ma se si può risparmiare aumentando la salute dei cittadini se si può risparmiare ovviamente ridando dignità ad una categoria che è stata umiliata in questi anni sto parlando purtroppo della categoria che viene vista come la casta voglio dirlo alla telecamera non siamo più la farmacia degli anni 80 e degli anni 90 non siamo più quella siamo ben lontani da essere i paperoni lo dico io la farmacia l'ho comprata da poco con i soldi miei e me la sto pagando da dieci anni quindi non ho mai visto quell'epoca io però posso dire che quell'epoca io non l'ho mai vista e non tornerà mai più la farmacia adesso è un'epoca dei leopardi l'ha detto lei io ecco la farmacia adesso è un esercizio commerciale che eroga salute che ha serie serissime difficoltà a stare in piedi questo lo voglio dire purtroppo perché è così senta un'ultima domanda lei conoscerà sicuramente l'ultima scelta del Campidoglio su Farmacup e quindi la possibilità di vendere quote importanti di questa struttura quanto la farmacia privata può essere interessata a entrare dentro questo tipo di soluzione dipende dipende da un po' di cose intanto io credo che è un'opportunità soprattutto io sono un cooperativista convinto cooperativa di farmacisti ovviamente io credo che c'è la possibilità per magari delle cooperative di farmacie di acquistare una una quota però io credo anche stando in Italia forse il 49% non basta io credo che bisogna andare oltre bisognerà andare oltre il 51% perché altrimenti ho paura che verrebbe continuare ad essere gestita un po' alla vecchia alla vecchia maniera e allora sarebbe soltanto un diciamo così un sollievo momentaneo di qualche fondo però se vogliamo riqualificare farmacup deve essere messa in mano a persone che la sanno gestire e devono avere anche autonomia col 51% io credo dal 51% in poi io credo che potrebbe essere risanata e non credo sinceramente che possano esserci diciamo licenziamenti perché se una società viene risanata ovviamente si spera che magari dopo si vada sempre meglio devo dire che se viene invece continuato ad essere gestita da persone che magari non fanno questo di lavoro ho paura che non si arriverà mai a un punto a un punto